Questo qui sarà un video assolutamente super spiegone e quindi per renderlo diciamo più fruibile qui sotto ci metterò o comunque proverò a metterci tutti i vari capitoli almeno se volete approfondire qualcosa nello specifico semplicemente vi basta cliccare nei capitoli qui sotto in ogni caso sarà una sfida anche per me cercare di raggruppare tutti questi argomenti in un unico video che non duri 5 ore comunque spesso parlo di terminologia specifica relativa alla stampa 3d oppure tiro fuori dei nomi di componenti che potrebbero essere sconosciuti ad alcuni di voi quindi oggi andremo a vedere come è fatta una stampante 3d il suo funzionamento base e i nomi dei suoi componenti ma come sempre prima di andare al video sigla! per supportare la produzione periodica di questi contenuti vi invito se non lo avete già fatto di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale spuntando la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti questi contenuti video relativi alla stampa 3d eccetera eccetera comunque per tornare al discorso la stampante 3d è un macchinario di manifattura additiva per la produzione diciamo di oggetti finali rientra nella categoria di prototipazione rapida non è altro che un insieme di tecniche industriali volte alla realizzazione fisica in tempi relativamente brevi del prototipo a partire da un modello 3d per funzionare però tutti i componenti sia strutturali che meccanici ed elettronici devono funzionare in perfetta sinergia reputo molto utile sapere quali componenti sono presenti all'interno della stampante proprio perché soprattutto quando si va a chiedere a qualcun altro consiglio almeno sapete dove mettere le mani e a che cosa ci si sta riferendo di preciso ovviamente non tutte le stampanti sono identiche né per il modello né per la cinematica utilizzata e via così quindi cercherò di prendere in considerazione tutti gli aspetti comuni alle stampanti FDM quindi la classica fusione di materiale per schematizzare ho diviso il video in varie sezioni il software è una cosa che magari tratteremo in un altro video più specifico partendo proprio dalla struttura dico subito novietà ovvero che è fondamentale per garantire stabilità e precisione di una stampante 3d le più comuni macchine come ad esempio le Ender 3 e parte delle artiglieri sono formate e costituite da estrusioni in alluminio di tipo V-slot che io conosca solo le Prusa Original utilizzano le estrusioni di tipo T-slot che vengono però usate solo per questioni strutturali come dicevo nella Ender o similari le estrusioni V-slot compongono gran parte della macchina perché sono molto semplici da reperire e si possono comporre in modo molto pratico per quanto riguarda le dimensioni sono abbastanza standard tipo il 20x20, il 20x40, il 40x40 eccetera eccetera altre stampanti come invece la Artillery Sidewinder invece usano un mix di lamiere piegate insieme alle estrusioni V-slot diciamo che anche la Ender utilizza alcune lamiere ma in maniera più marginale a mio avviso stampanti come la Anycubic Mega invece non hanno estrusioni ma sono fatte interamente di lamiere tagliate e piegate Prusa Mark 3S invece differisce un pochino dalle altre macchine perché sfrutta come dicevo 4 estrusioni di tipo europeo come giunzioni lamiere di alluminio tagliate e parti stampate chiaramente non c'è una cosa migliore dell'altra dipende poi da come la macchina è stata progettata passando invece alla movimentazione nelle stampanti 3D si usano prevalentemente tre tipi di movimentazioni lineari puleggia cuscinettate, canne lisce e le guida rotaia le puleggia cuscinettate sfruttano letteralmente come rotaie le parti strutturali come IV-slot questo è un sistema molto utilizzato soprattutto sulle stampanti economiche come la Ender 3 proprio per il loro basso costo di produzione non hanno bisogno di particolari diciamo accortezze se non nella regolazione della distanza puleggia rotaia attraverso l'uso dei dadi eccentrici il sistema di movimentazione attraverso cuscinetti e canne lisce è il sistema utilizzato da stampanti come la Anycubic Mega la Prusa e ad esempio la Ghost 5 hanno bisogno di qualche accortezza aggiuntiva sia in fase di progettazione sia per quanto riguarda la loro manutenzione ma offrono sicuramente degli ottimi risultati generalmente si usano cuscinetti di tipo LM8 e canne lisce da 8 mm ma per certe applicazioni il loro diametro può essere maggiore ultime ma non per ordine di importanza troviamo le guide a rotaia che ovviamente se di buona qualità penso siano il miglior modo di fare sistemi di movimento lineari così come i cuscinetti LM8 funzionano per il principio di ricircolo di sfere quindi un'elevata scorrevolezza e precisione però a differenza delle canne lisce anche un singolo binario vi permette di avere il movimento vincolato su un unico asse quindi si presta bene anche per utilizzi decisamente più specifici questa scheletta vi ricordo però che è anche in ordine crescente di prezzo comunque visto che abbiamo parlato di come vincolare linearmente qualcosa come facciamo a farlo muovere realmente? principalmente ci sono due modi ovvero le viti trapezie oppure delle cinghie ovviamente si potrebbe aprire una lunga discussione a riguardo ma mi soffermo solo sul fatto che le viti trapezie sono generalmente utilizzate sull'asse Z perché vi permette movimenti rigidi, lenti e precisi il modello più utilizzato è il T8 se invece parliamo di movimentazione XY generalmente si utilizzano cinghie di tipo GT2 chiaramente il tutto deve essere collegato ad un motore tramite giunti o pulegge dentate compatibili con quello che vi serve visto che abbiamo introdotto un pochino il come si muovono gli assi di una stampante 3D io direi che possiamo aprire una piccola parentesi sulla questione cinematica come avrete sicuramente visto dai vari modelli presenti online di stampanti 3D vi sarete sicuramente accorti che non sono proprio tutto uguali la più comune che troviamo in commercio è quella cartesiana praticamente asse X sostenuto dall'asse Z e piano di stampa Y sulla base per la stragrande maggioranza dei casi è una cinematica che va assolutamente bene perché economica, facile da progettare e ben funzionante ovviamente a patto che non ci mettiate chili e chili di materiale sul piatto tra queste troviamo la Prusa Mark III S, l'Artillery Sidewinder, Ender 3 ma anche la Prusa Mini e la Setus nonostante possano sembrare differenti una alternativa a questo sistema di movimento è la cinematica stile MakerBot usata dalla Ghost di Flying Bear, dalla Ultimaker e ovviamente da MakerBot praticamente il motore Y è fissato al telaio e fa muovere un carrello che comprende anche le guide lineari e il motore dell'asse X questi due assi rimangono comunque ancorati al telaio in alto della macchina l'asse Z invece è il movimento verticale che va a fare il piano di stampa effettivo che poi ripensandoci bene il sistema Ultimaker non è proprio identico forse e quasi sicuramente potrebbe essere messo in una categoria a parte a prima vista le Core XY possono sembrare simili alla cinematica appena descritta ma in realtà sono decisamente differenti in base a come progettata la stampante può essere il carrello XY a muoversi in verticale oppure come ad esempio su una MakerBot può essere comunemente il piatto a farlo comunque concentrandoci sugli assi X e Y avranno un particolare sistema di cinghie che permette avendo i motori ancorati al telaio di far muovere per tutto il piano il carrello attenzione però i movimenti degli assi di questa cinematica non sono direttamente proporzionali alla rotazione di un determinato e singolo motore infatti non ci sarà il motore X e il motore Y bensì servono entrambi per far muovere anche un solo asse perché infatti se voi provaste a muovere un solo dei due motori ovviamente tenendo fermo l'altro il risultato sarà praticamente un movimento diagonale del carrello una cosa del genere avviene anche con le stampanti Delta ma di quelle ne andremo a parlare tra poco le Core XY sono decisamente ottime per la loro precisione e velocità nei movimenti ovviamente però questo sistema è più complesso e necessita di maggior potenza da parte della scada madre passando alle stampanti Delta si riconoscono subito perché questa? perché sono totalmente differenti dalle altre in particolare tendono ad essere molto alte e a base triangolare sono dotate di un carrello collegato a delle barre su tre guide lineari verticali che gli permettono di muoversi nel piano cartesiano ovviamente attraverso particolari algoritmi anche qui i vantaggi sono una velocità di stampa decisamente alta a discapito però del volume di stampa che anche qui tende ad essere più alto che largo come sulla Core XY però serve potenza per far andare la baracca poi ci sarebbero le stampanti polari a cinghia e le scara ma magari le andremo ad approfondire in un video a sé adesso invece andiamo all'estrusione in modo semplificato l'estrusione avviene tramite la spinta di un filamento termoplastico all'interno di una camera di fusione e poi successivamente depositato dove serve attraverso il nozzle di uscita per entrare nel dettaglio l'estrusore ha il compito grazie alla potenza e alla precisione di un motore di spingere una certa quantità e ad una determinata velocità il filamento verso l'otend questo componente ha generalmente una ruota di tipo godronata al fine di fare presa sul filamento per poi andarla a spingere questa ruota può essere collegata direttamente al motore ma in determinati casi può avere degli ingranaggi per avere una riduzione oltre a questo potreste trovare i dual drive che praticamente hanno due ruote godronate che spingono da entrambi i lati il filamento ciò ovviamente porta ad una migliore erogazione arrivati a questo punto potreste avere un'estrusione direct drive o un bowden il direct drive è un sistema di estrusione posto direttamente sopra all'otend è ottimo per i filamenti flessibili e vi permette sui filamenti normali di avere distanze di retraction relativamente corte di contro è che avrete un carello pesante e in certi casi può esservi di intralcio per quanto riguarda la velocità di movimento il sistema bowden invece sposta il motore e gli ingranaggi di estrusione direttamente sul telaio oppure sul carrello z perché comunque è un posto abbastanza fermo questo sistema trasporta il filamento grazie ad un tubetto in ptfe al contrario del precedente vi permette di avere buone velocità di spostamento grazie proprio al fatto che non avrete troppo peso sul carrello ma le performance con i filamenti flessibili peggioreranno e sui filamenti normali dovrete aumentare le distanze di retraction dopodiché il filamento viene spinto all'interno del cold end prima di arrivare al più famoso hot end le due parti sono divise da un aggeggio chiamato heat break letteralmente rompitore di calore questo perché serve a separare la parte calda da quella che poi deve stare a contatto con le parti del carrello difatti il cold end è in genere un dissipatore di calore così che possa essere ventilato e usato come ancoraggio il materiale di cui sono fatte queste componenti deve essere di buona qualità e soprattutto idoneo allo scambio di calore perché se no potreste soffrire di problematiche come la deformazione del tubetto in ptfe oppure heat creep comunque considerate che il calore che viene dalla resistenza viene diffuso prima nel blocchetto per poi andare nel nozzle ma ovviamente arriva anche a heat break che a sua volta viene dissipato proprio dal dissipatore posto di sopra infatti si tratta diciamo di un giusto bilanciamento perché voi non dovete dissipare diciamo il blocchetto quindi il hot end ma al contempo non dovete portare il calore nella parte fredda questo sarebbe il vero scopo dell'heat break all'interno del blocchetto troverete anche in genere la sonda termica parte fondamentale ovviamente per regolare correttamente la temperatura di estrusione passando a parlare del nozzle può essere di materiali e di diametri differenti il diametro in ingresso più comune è quello da 1,75 mm ma esiste anche quello da 3 mm usato da altre tipologie di stampanti che possono accettare in input filamenti di quel diametro mentre invece il diametro in uscita può variare molto in base alle esigenze ma anche qui il più comune è quello da 0,4 mm più è grande e più gli strati saranno visibili e i tempi di stampa si riducono invece più piccolo è il nozzle e maggiori dettagli riusciremo a generare ovviamente a discapito del fattore tempo l'ugello è generalmente fatto in ottone che è un buon materiale per la stragrande maggioranza dei filamenti presenti in commercio quando però volete andare a stampare materiali più abrasivi come ad esempio la fibra di carbonio allora vi conviene passare ai nozzle di tipo indurito come ad esempio quelli in acciaio quelli con la punta in rubino vabbè oppure quelli un po' più particolari come ad esempio il nozzle X ma tutto sto materiale fuso dove va a finire? ovviamente ci serve un piano di stampa idoneo per far aderire il primo strato e mantenerlo appiccicato fino alla fine del processo non è sempre obbligatorio utilizzare un piano riscaldato ma oramai praticamente tutte le stampanti ne sono provviste il riscaldamento del piano agevola la superficie di stampa a mantenere l'adesione col primo strato dell'oggetto che si sta stampando tra i vari piani troviamo quelli classici in metallo che possono essere coperti dal vecchissimo e buon blue tape oppure da un piano in vetro oppure ancora un vetro trattato con rivestimento microporoso tipo ultrabase oppure ancora troviamo i piani magnetici tutte le componenti del piatto devono garantire una certa planarità altrimenti andrete incontro a problematiche relative al primo layer quindi alcuni punti più schiacciati di altri nonostante abbiate livellato il piatto questa non planarità si può però compensare con una funzione chiamata mesh bed leveling oppure ad esempio con sonde di autolivellamento ad esempio BL touch o quant'altro ma questa è un'altra storia chiaramente tutte queste parti non servono assolutamente a niente se non gestite dalla parte elettronica tutto è pilotato dalla scheda madre ovvero una scheda elettronica munita di varie componenti porte e quant'altro per leggere sensori di temperatura capire se un contatto è chiuso o aperto dare tensione alla ventilazione o ai ben più potenti elementi riscaldanti come ad esempio il piatto o lo tend poi ovviamente deve poter ospitare gli stepper driver per pilotare i motori passo passo questi ultimi li possiamo trovare sia saldati cosa che non apprezzo a meno che non ci sia una reale motivazione oppure con lo zoccoletto classico ovviamente tutte queste informazioni vengono recepite e computate da un microcontrollore presente sulla scheda una volta si usavano gli Atmega 1284p oppure 2560 di cui sono equipaggiati anche gli Arduino Mega entrambi però ad 8 bit ora come ora si cerca di passare ad architetture a 32 bit perché è capace di gestire set di istruzioni più complesse questi nuovi microcontroller hanno potenze decisamente più elevate rispetto ai vecchi modelli e infatti ciò si ripercuote assolutamente nella qualità finale della stampa soprattutto su stampanti di tipo Delta o come vi dicevo anche le Core XY vi spiego una cosa che apparentemente sembra decontestualizzata ma ci servirà tra poco i motori passo passo vengono pilotati a step ovvero si muoveranno di un certo angolo in base alle specifiche del motore e al micro stepping quindi gli stepper driver non faranno altro che attivare i motori e a dargli il colpetto di step per farli muovere in un verso o nell'altro infatti per pilotare uno stepper driver in maniera molto blanda e pura avremo tre pin il pin dell'attivazione il pin della direzione e quello relativo allo step quindi al colpetto che viene dato di conseguenza l'attivazione farà funzionare il driver e terrà in posizione il motore quello della direzione ovviamente decide se farà andare in senso orario o anti-orario mentre invece quello dello step farà il tan 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 il motivo per cui io vi dico che sulla mega ci vanno fatte delle modifiche o quant'altro quando volete prendere e modificare gli stepper driver passando dagli A4988 ai TMC di Trinamic è perché la loro logica proprio del pin dir quindi della direzione è invertita rispetto al modello originale quindi non dovete far altro che far capire alla stampante o comunque modificare i collegamenti elettrici per fare diciamo questa azione che non sarebbe altro quella di prendere e far invertire la logica di funzionamento della direzione ovviamente sto semplificando molto questi concetti ma la cosa la potremmo approfondire in un secondo momento quindi come avviene il movimento degli assi? in parole povere ogni movimento che impartirete alla stampante è un'istruzione che comprende distanza millimetrica in positivo o in negativo nella modalità relativa oppure delle coordinate spaziali in modalità assoluta insieme ad un parametro di velocità chiamato feed la stampante di base conosce quanti step ci vogliono per fare un millimetro di conseguenza moltiplicando il numero di millimetri da percorrere per il valore di step per millimetro troveremo quanti step ci vorranno per portare l'asse in quella posizione specifica questo numero di step viene ovviamente distribuito temporalmente in base al valore del feed che gli abbiamo impostato per effettuare l'homing degli assi si utilizzano generalmente dei fine corsa conosciuti anche come endstop ne esistono di vari tipi ad esempio i classici meccanici gli ottici oppure gli induttivi che funzionano senza contatto stampanti come la prusa mark 3s però sono sprovvisti di endstop e per fare l'homing sfruttano una tecnologia integrata negli stepper driver che sostanzialmente fa capire al software quando un asse colpisce ad esempio la struttura determinando il punto zero l'homing della z però può avvenire anche con una sonda di autolivellamento infatti troverete alcune stampanti che non hanno un fine corsa dell'asse z ma utilizzano la sonda dell'autolivellamento come endstop z questi sistemi fanno capire al firmware della scheda madre in che posizione assoluta si trovano gli assi per il controllo della temperatura sia del piatto che dello tend la scheda madre legge per l'appunto la temperatura attuale la processa e in base ad un algoritmo PID regola e rende stabile la temperatura pilotando la resistenza tramite un MOSFET presente sulla scheda madre i MOSFET sono dei circuiti elettronici capaci di pilotare dei carichi che ad esempio un'uscita digitale di un microcontrollore non riuscirebbe a gestire molti preferiscono collegare in cascata un altro MOSFET ad esempio per il piatto di stampa così da non sforzare troppo quello integrato nella scheda madre visto l'elevato assorbimento della resistenza del piano ultimo ma non per ordine di importanza troviamo l'interfaccia a display della stampante principalmente ne esistono di due tipologie quelli che comunicano e vengono gestiti direttamente dalla scheda madre e quelli indipendenti i primi sono quelli delle classiche Ender, Bruso Original e similari questo perché è proprio il microcontrollore della scheda madre a dirgli che cosa scrivere e a leggere gli input ad esempio del pomello quelli indipendenti hanno letteralmente un proprio firmware, una propria scheda di controllo quindi un microcontrollore a sé infatti vanno aggiornati separatamente questi li troviamo ad esempio sulla NQBic Mega e sulla Artillery Sidewinder questi ultimi funzionano autonomamente e semplicemente inviano dei comandi via seriale direttamente alla scheda madre non ho idea di quanto sia durato questo video ma ho paura che questa volta abbia fatto record sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa ed eventuali aggiunte magari le faremo in altri video o similari in ogni caso fatemi sapere se avete dei dubbi, cosa ne pensate oppure se volete aggiungere qualcosa a quanto detto mi raccomando qui sotto nei commenti e niente ragazzi io credo di aver detto tutto veramente non so quanto sia durato questo video anche perché poi dopo cercherò di stagliuzzarlo e di comprimerlo il più possibile e niente ragazzi io spero tanto che questo video vi sia piaciuto mi raccomando se così fosse lasciate un grande mi piace, iscrivetevi, commentate mi fa sempre un sacco piacere e ci rivediamo ad un prossimo video grazie 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 grazie